segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te qualora in italia dovessero vincere i populisti secondo lei che cosa cambirebbe pensiamo anche al voto francese in francia ha vinto macron ma la le pen è molto forte all'assemblea nazionale se in italia dovessero vincere i populisti per l'italia cambierebbe qualcosa secondo lei io non posso sostituirmi agli osservatori eminenti della vita politica italiana che siete voi io non ho la competenza non ho l'esperienza che mi consentirebbe di fornire un giudizio valido come come dire io vorrei esprimere il desiderio ardente che il populismo non vinca abbiamo visto quello che il populismo vincendo in inghilterra ci ha dato con la brexit o che ci ha appena dato con l'esempio del primo ministro inglese abbiamo visto quello che il populismo aveva dato agli stati uniti io mi auguro vivamente che l'europa possa proteggersi dal populismo non evidentemente eliminandolo perché siamo nelle democrazie nelle democrazie tutte le sensibilità parlano e possono essere rappresentate ma non giungendo al potere quindi il mio desiderio vivo per l'italia così come per la francia come per tutti i paesi avanzati è questo abbiamo già avuto una certa esperienza e a me non sembra positiva nei paesi anglosassoni parliamo di sanzioni alla russia grazie a tutti